L'emozione è tanta, siamo e siamo orgogliosi dei risultati, abbiamo ottenuto dei buoni punteggi e da domani ci mettiamo all'opera per svolgere il nostro programma e portare al termine tante cose che già l'attuale amministrazione aveva in essere. Noi abbiamo un programma elettorale che non va a colpire ma comunque copre tutte le fasce d'età sia gli anziani, sia i giovani, sia chi ha un'azienda, sia gli operai, tutti quanti, le famiglie a partire dall'asilo piuttosto che per le attività, per le associazioni che svolgono cultura, sport ne abbiamo per tutti. Sicuramente intanto dobbiamo metterci all'opera, spero sia un confronto costruttivo penso che da parte loro ci sia una buona disponibilità e auguro per tutto il Consiglio Comunale un buon lavoro.